Abbello, hai visto il Silurotto? Vogliamo scoprire che c'è là dentro? Qui dentro? Andiamo, che ora ci divertiamo. Speriamo di non fare un casino più che altro. Guarda un po', ho preparato pure il set. Eccone qua, pronto per vedere cosa c'è dentro questo Bersilurotto. Dai va, sbrigiamoci che non sciolto tanta batteria delle cuffie che devo usare oggi con il microfono. Ed eccoci qua, in tutta la sua magnificenza. Partiamo dallo stigaro. Abbiamo un attimino spolverato qua. Spostiamo un attimo questo. Ah no! Ok, e il controllo è andato. Questo è l'esercito. Poi lo vediamo meglio. Io adesso inizierei a farmi le batteri o le... Magari nel frattempo capisco questo che parte è. Perfetto, mi sono appena accorto che nella prima parte del montaggio non si è visto un beato. Allora intanto vi metto qua i pezzi che ho fatto. Le prime delle batterie e il controllo. After the interview, mi sono appena accorto il video. E' un video. I land. Ah, mi risalutati. Forse prima non si è visto. Ciao! No! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccolo qua. Lo adoro. Devo dire la verità, lo adoro. Veramente, veramente tanto. Un particolare ringraziamento a Luciano che mi ha inviato il file in modo completamente gratuito. Lo posto, lo metto qui, link in descrizione, al file e alla società di Foligno che mi ha fatto la stampa. Costata solo 20 euro e me l'hanno consegnato in pochi giorni. Decisamente un ottimo servizio, assolutamente consigliata. Ovviamente non ve lo dava una lira per dirvelo. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Un bel pollicione. Magari condividetelo anche. Dica male. E alla prossima.